Il primo dicembre 2020, Sveglia e Telessandria, siamo qui al Parco Italia. Quello che vedete è un ritratto che è stato inchiodato a questo tronco che in pratica è stato abbattuto a causa delle fasi del maltempo del primo agosto di quest'anno e abbiamo notato, passeggiando in questo parco, che ogni singolo albero abbattuto il ceppo, quello che è rimasto, ha una tavolozza di legno con un dipinto. Qui ne troviamo un altro. Buongiorno, in questo parco ci sono diversi tronchi, ceppi che sono rimasti. Buongiorno, professore. Buongiorno. Stavamo osservando un Curiosity questo episodio, qui ne abbiamo un altro. Una sorta di, non so come dire, anche di rappresentazione. Non sappiamo l'autore. L'autore c'è una sigla che mi pare di avere 1417 o 14IT, non ho capito bene. Un artista probabilmente di strada, ma sui generis, che ha voluto... Perché tutti i tronchi... Tutti i tronchi che abbiamo qui, i ceppi, riportano queste tavolozze, questi dipinti. Tutti i ceppi. E con un altro qui... Abbiamo una sorta di cimitero, cioè perché questo è un cimitero sostanzialmente. Ad ogni cimitero, ad ogni morto, ad ogni simulacro, c'è appiccicata, c'è collocata una figura dipinta, donna, uomo. Qui abbiamo scritto, c'è anche una scritta, Pantagru 2. Vi faccio vedere bene. Guardate come era vecchio questo tronco, guardate... Secolare. Era secolare. Adesso contare i cerchi, guardate le radici. Comunque questa iniziativa può collegarsi benissimo con quanto detto prima, professore, in Piazza Genova. Sì, è una sorta... Questo in modo spontaneo, questo artista, non lo sappiamo chi sia, in modo spontaneo ha voluto in qualche modo commemorare, ecco, chiamiamo così, lasciare un ricordo di questi caduti. Perché questi sono dei caduti, caduti che non torneranno più. Come in ogni guerra i morti non tornano più, questi alberi ormai sono caduti. Facciamo vedere anche questo. Ecco qua. È entrata una donna, guardate qui la firma. Ecco, eh. Quattordici itti, questa è la firma. È legno avvitato o inchiodato. Ci sono dei chiodi. Sì. Originale, come idea. Facciamo... Originale. Lanciamo un appello anche a questo artista che... Di svelarsi, di dire a chi è. Se vede questo filmato, di contattarci che... Perché tutti, eh. Noi abbiamo notato. Tutti, tutti, anche là in fondo. Tutti ceppi, anche là in fondo, hanno questo identificativo. È una sorta di commemorazione. Va bene. Aspettiamo l'artista. Magari per un'intervista. Arrivederci.